Ciao a tutti ragazzi e ragazze, qui è GioKey vi parlo e oggi siamo in un nuovo video di Crash Royale in compagnia di Leopika. Saluta! Ciao a tutti! Allora, quello che pensavamo di fare oggi erano tipo delle amichevoli con massi assurdi, solo leggendari e... Diciamo che li varieremo, perlomeno questa prima challenge la facciamo così, poi dopo probabilmente arriveranno anche altre challenge in futuro, ovviamente con rimescolamenti fra aggiunte di specchio, scarica, la peggio, la zap, non lo so, cose così. Insomma, si vedrà. La facciamo, tra parentesi, nella nuova arena leggendaria, perché come è bello aver notato da questo aggiornamento, la precedente arena leggendaria è stata rinominata a Monte Cinghiale, infatti dietro la statua è di un domatore avendo il martello, e è uscita la nuova arena leggendaria, che secondo me è stupendo. Ma quanto è brutto il boia! Ma guardalo! Sembra un ritardato! Ma guardalo! Ma poi non è soltanto ritardato, cioè è pervertito, perché vedi che... eh, la mi piace! È vero! Il boia, io continuo a pensare al boia, perché l'hanno rovinato? Ma dai, sembra un imbecil! Sembra un imbecil, guardalo! Ragazzi! Sai che questo andrà nel video, vero? No, 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 t'ho matto, t'ho matto tantissimo! E invece sì! E' la fine, è la fine! Culo! Così a caso! Bella giocata! Ops! E' la cosa! Iiii! Ops, allora dai, dai, concentriamoci seriamente stavolta, eh! Ecco! Mi sono sempre in gradito! No! Ok, ok, ok! Basta! Finisci! Ah, basta! No! No! Ti odio! Ti odio too much! Però adesso faccio questo! E vabbè, RIP, non ce l'avevo ancora la clone! Non ce l'avevo, io... Oh! Uh! No, no! Dai, però, non parli! Boia del cavolo! Eh sì, zero danni! Eh sì, zero danni! Eh, poi... Oh, scusa, eh! Non volevo disonorare... Il puttossire! Non lo entendo! Sai che ho notato adesso che... Oddio! Il slice, bella macchina! Bravo, boscaiolo! Non l'ho toccata, me l'ha detto che sei una cacca! Boscaiolo è proprio bravissimo! No, non hai capito... Serio! No! 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 Non ho fatto un po' di... No! Sei il male! Sei il male, veramente! Chissene! Grazie! Perché è un complimento dire sei il male, ma... Allora, proviamo! Golem di ghiaccio! Sei fermo! Che voglio fare nei miei combo! Ssh, sit! Tene, secondo di merda! No, 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 no! Non fai solo fuori! UURgh! No! Si, mi hai fatto la cosa? Ah, ah! Eh, tu mi hai fatto la mia! Ops! 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 No, no. Dai però, ero così contenta, felice, come una bambina. E arrivi tu che rompi le palle, così. Like this. In this way. Look! Clona! Bravo! No! Attacca, porca... Guarda cos'è questo macello qua. Ho preso... Ops! Ha preso anche il boia quanto vuole. Eh, però adesso c'è un po' di gallina, eh. Così, a caso, il golem mi piace. Dai, se l'hai dovuto dire. Vai, se l'hai dovuto dire. Eh, dai. Il mace di questo è quello che fa lo darmo. Sì. 8-102-9 di gas. Quello sì che fa un danno, eh. Eh, dai, però... Sto io ti ho avuto tantissimo, tu non hai idea. Dai! Cosa stai facendo? Sai inutile, boscaiolo, merda. Sto io ne ho... Eh, più, tu, sì. Allora, proviamo. Facciamo... Eh, poi? Vuoi metterci... Sì, la cazza che lì la mette. Dai, però... E come faccio a vincere così? Non vincito, direi. E invece sì. Dai, uccidi qualcuno, Madagari. Madagari? Madagari, serio? Madagari. Cosa c'entra così a caso? Basta, stiboglia! Non me li shottare, prego. Non me li shottare. Oh mio Dio! No! Oddio, oddio, oddio. No, no! Nel tipo che a mezzanotte io sbatto i pugni sopra la scrivania. Mi sarebbe il testo minchia rinchiare. Mi sarebbe il testo minchia rinchiare. Sono un trattore. Giochi trattore. Giochi passione trattore. Oddio, non respiro. Un po' caldo. Oddio, piango. Ci sarebbe il testo minchia rini, tipo cose così? Ci sarebbe tantissimo. Allora. E vai così. No, 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 no. Posto. La mia torre è giù. Sai che nel momento in cui l'hai sdoppiato l'hai fatto resettare. I know I see. Oddio, la mia torre. Non l'avevo vista. Sono tristissima. Oh, oh, no, no. Vabbè, però, un pochino di danno te l'ho fatto. Adesso. Sono partita male come maf. Cioè, come... Aiuto. Proviamo così. Affzarola. No! Non so se sei inutile, boi, però c'è potete prenderli tutti subito. E invece no. Come mi comporto? Aspettiamo che arrivi. No. Aspala sotto. Bella, logica. Ok. Allora, dai, dai, dai. E' un nuovo patata sirine. Oddio, che faccia stai. Ah! Ah! È presente Nelson di Simpson? Che fa così ogni volta a casa. No? Eh, sì, non so. Vuoi portare qualcun altro della family dei Goblin, boh? Ma dai, ma... Non lo chiederai, presenta. Oddio, basta! Hai messo lo specchio, quanto ti odio. No. La ciclata. La ciclata. Come fai a ciclarla? Spiegami. La ciclata. Questa è lo specchio. Ma cosa? Ma cosa? Eh, io faccio così, straconte di merda. Guarda come faccio, guarda. E non li ho neanche presi. Basta, si rinuncia. Ciao, io me ne vado. Basta. Me ne vado via. Quip, rage, quip. Me ne vado, me ne sono andata, buona. Ah, ok. Ok. Vai, cartone. Grazie. Allora. Ops. Così, a random. Come sempre. L'ops ormai è di tradizione. Ok. Allora, io vado così. Vediamo come contattacchi. Adesso mette robe. Tipo mastino. Ecco. Lo sapevo! Aiuto! Come è stato? Allora, una parte te l'ho scioccata. L'altra no. L'altra... Ciao, belli. Danni. Danni, danni, danni. Aiuto. Hai il tuo dovere. Allora. Ma cosa ha fatto? Dai, guarda, 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 guarda. Guarda, guarda. Perché? Perché hai messo? No, 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 no. Ho perso. Hai fatto la cazzata, avevi vinto. Lo sai se sta dicendo? Ti odio. No, perché odieti da solo, sei stupida. No, non sono stupida, sono stupida. Mi hai fatto sbagliare tu in realtà. Cos'è? Si schifo, quando sono piantata. Perché? Perché è lui lì? Perché sto scemo di merda, non è morto? Eh, sì, sorridi. Che adesso crepi. Cos'è? Ma io di ghiaccio. Oh, oddio, oddio, oddio. 150. No, era 130 con il Guardingarix. Allora, allora, allora. Concentriamoci. Ma quanti sono? Nei clonati? Eh sì. Eh sì. Ma sei scherzi? Vabbè, ormai te la lascio una torre lì, dai. Allora, traiamo una cosa, eh? Vediamo. Tanto amai. E' mia. Eh? No, io non ci credo. Ah, ecco. Ecco. Eh, scusa, eh. Cioè, sennò come... Come? Cioè, come potevo? Non vincere questa partita. Capito? Bene, ragazzi, questo video finisce qui. Mettete un bel like se vi è piaciuto. Lasciate i commenti qui sotto. Mettete mi piace, la pagina di Facebook che troverete nella descrizione. Iscrivetevi se non avete già fatto e ci vediamo in un prossimo video. Saluta. Ciao. 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 Grazie a tutti